Musica Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza Campi-Flegrei, l'allerta resta gialla. Bisogna investire per mettere in sicurezza il territorio, lo ha detto il Ministro per la Protezione Civile, Musumeci. Confermo che l'intenzione del Governo è quella di impegnare risorse in quella zona cosiddetta rossa, sia per le infrastrutture pubbliche, scuole, municipi, istituti carcerari, le infrastrutture viarie. Già una parte delle risorse è stata stanziata con il Decreto Legge 140. La rimanente risorsa, che è la più sostanziosa, verrà integrata dal Governo. Lo stesso intendiamo fare per il patrimonio privato. Anche lì vogliamo capire quante sono le persone che richiederanno di mettere in sicurezza la propria casa. È stata valutata una sorta di fascia di priorità. Questo mi piace dirlo perché può essere utile. Tutti gli edifici censiti nell'area ristretta sono 8.000. Il 50% di questi edifici è quello esposto al rischio. Di questo 50% 1.250 case sarebbero a elevato rischio sismico, 2.750 a medio rischio. Quanto il Governo potrà stanziare e con quali modalità per mitigare il rischio di chi ci abita questo lo valuteremo soltanto quando si sarà completata l'operazione di ricognizione della vulnerabilità degli immobili. In base naturalmente alla mole di lavoro da affrontare si quantificherà la risorsa. Io sottolineo come sia stato un errore nel passato incoraggiare nuove costruzioni in quell'area. E posso dire che questo Governo si adopererà con un'apposita norma per vietare nuove costruzioni nella zona del bradicismo. Non è possibile pensare a un piano di evacuazione preventivo e al tempo stesso un piano di sviluppo urbanistico. C'è un'alta densità di costruzione di abitanti. Abbiamo problemi a definire un piano di evacuazione che speriamo di non dover mai utilizzare ma che deve essere presente in ogni comune, non in quelli, in ogni comune d'Italia ci vuole sempre un piano di evacuazione e quindi il Governo si impegnerà affinché, speriamo di poterlo concordare con la Regione Campania e con gli stessi enti locali, si impegnerà affinché non ci siano altre nuove case in quell'area. Chi vuole, riqualifichi, consolidi, ristrutturi quelle che esistono. Noi abbiamo la necessità di dire alle persone, lo faremo attraverso i servizi che spero la stampa vorrà sostenere, che chi ha scelto di vivere in quell'area sapeva di vivere su un'area complessa, difficile, che presenta alcuni rischi. Non abbiamo la netta percezione della entità del rischio e della sua evoluzione. Ce ne ricordiamo solo quando la terra trema e questo è un grande errore e un grande limite. Immediata la replica del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al Ministro della Protezione Civile, Musumeci, sull'emergenza bradisismica. Non dobbiamo prendere in giro la gente, ha detto il Governatore De Luca, non dobbiamo fare demagogia. Non possiamo però neanche attribuire a chi è nato in quel territorio, dei campi flegrei, la responsabilità di essere nato lì. Sappiamo che è un territorio difficile, però dobbiamo dare un'alternativa a queste persone. Dobbiamo evacuare tutta l'area interessata sul Vesuvio o i campi flegrei, a cominciare da Pozzuoli. Anche questo sarebbe una situazione veramente assurda, bisognerebbe cercare di mettere in sicurezza sicuramente gli edifici più vulnerabili e poi eventualmente lavorare sulla consapevolezza dei cittadini e quindi offrire loro un'alternativa, ma certamente senza colpevolizzarli. È stato bloccato l'uomo che si era abbaricato in casa a Napoli nella zona di Chiaiano. Nessuno è rimasto ferito. Ricostruite le fasi di quanto accaduto dopo l'esplosione di alcuni colpi in aria, qualcuno ha avvertito la polizia che è intervenuta sul posto. L'uomo in un primo momento non aperto, poi si è convinto ed è stato bloccato dagli agenti. Ancora ignoti i motivi del gesto. Alle 6 di questa mattina è sceso in strada ed è iniziato ad inveire contro i passanti. Non era la prima volta così le persone del quartiere a Chiaiano. Non hanno dato troppo peso a quel quarantenne emaciato in evidente stato di alterazione. Non pago però due ore dopo è salito nella sua abitazione per tornare in strada armato. Ha iniziato a sparare esplodendo colpi in aria, uno dei quali si è conficcato nella finestra di un appartamento. Tutto questo mentre molti genitori stavano accompagnando i figli a scuola. È iniziato, racconta che c'era un fuggifuggi. L'uomo è salito nella sua abitazione, poi si è baricato in casa. Quando la polizia si è presentata davanti all'appartamento, aperto senza problemi, era, come già anticipato, in condizioni di evidente alterazione, probabilmente a causa dell'uso di droghe. È stato portato in questura, non è stata ancora trovata l'arma. Ci sono alcuni precedenti, stranamente analoghi, nella città di Napoli. L'8 febbraio scorso a San Giovanni a Teducce, il 15 maggio del 2015, nel quartiere Secondigliano. Nel 2015, 5 persone, tra cui gli agenti della polizia municipale, Francesco Brunner e Vincenzo Cinque, furono ammazzate dalla furia omicidio dell'infermiere Giulio Murolo, che sparò con un fucile dal suo balcone. Un detenuto italiano, 40 anni, ha tentato di togliersi la vita al terzo piano del padiglione Milano, del carcere napoletano di Poggio Reale, l'uomo affetto da forte depressione. Per questo motivo era stato messo sotto stretta osservazione. Per suicidarsi si è procurato un cappio con le lenzuola, poi legate alle inferiate della finestra, e solo il tempestivo intervento del poliziotto penitenziario di turno ha scongiurato l'ennesima tragedia all'interno del carcere napoletano. Ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere della Metropolitana, in zona Capodichino a Napoli, un morto e due feriti ieri pomeriggio. Tocca alla magistratura stabilire l'esatta dinamica del tragico incidente in cui ieri a Napoli, nel cantiere della galleria di collegamento tra Capodichino e Poggio Reale, ha perso la vita l'operaio di 63 anni, prossimo alla pensione, Antonio Russo, e sono rimasti feriti i colleghi Salvatore Agliottone e Michele Pannone. Forse c'è stato un guasto ai freni di un locomotore che stava trasportando un carrello con a bordo i tre operai. Il cantiere è quello per l'allargamento della linea 1 della Metropolitana. Sul posto il dolore dei parenti, dei colleghi, dei sindacalisti, giunti non appena hanno appreso la notizia. Un lavoratore scende a lavorare, si alza per andare a lavorare, non ritirarsi a casa e avere la notizia che si è persa la vita sul posto di lavoro è inaccettabile. Antonio era un lavoratore, era uno che la mattina scendeva, sempre col sorriso sulle labbra, era un operatore specializzato, quindi sapeva fare il suo lavoro, era del mestiere. Purtroppo questi sono incidenti, sono incidenti proprio che non dovrebbero succedere. C'è bisogno di alzare la sticella. È scivolato un mezzo, o non si faceva manutenzione a questo mezzo, o è scivolato per motivi tecnici e è andata ad impattare con tre persone sopra, punto. Non c'è niente a chi ho a rischio. Hai un operaio specializzato, no? Sì, ma io lavoro a Castellammaro, sono corso qua perché ci sono i miei colleghi qua sotto qua. Non riesco manco a parlare, se ci avete fatto qua, perché è una cosa che da noi non è mai successa. Truffe per anziani a Napoli, la sede è operativa 17, gli arresti. Era a Napoli la centrale, ma le truffe agli anziani avvenivano in tutta Italia. 17 gli arresti eseguiti dai carabinieri su disposizione della Procura di Roma. In carcere o ai domiciliari destinatari delle misure cautelari, a capo dell'organizzazione una famiglia partenopea, a capo di una banda di 13 persone per cui il reato contestato è associazione a delinquere. Nel capologo campano la sede operativa con la centrale telefonica, da dove partivano le chiamate, a legnare vittime. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto anche un manuale con le informazioni per eseguire di volta in volta le truffe. 17 persone, 7 in carcere e 10 agli arresti domiciliari, di cui, come detto, 13 gravemente indiziate di appartenere a un sodalizio criminale dedito a truffe e distorsioni in danno di anziani e gli altri 4 di aver avuto un ruolo nell'esecuzione dei colpi. Come riscontro nel corso dell'indagine, i carabinieri hanno eseguito 10 arresti in fragranza di reato per truffe consumate a Roma in danno di anziani con il recupero e la restituzione della refurtiva. 80 gli episodi contestati avvenuti tra settembre 2022 e marzo 2023. Fingendosi impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o carabiniere, il telefonista diceva che un familiare doveva saldare il debito per ritirare un pacco che aveva provocato un incidente stradale, che l'assicurazione era scaduta e che per sistemare le cose era necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito, un complice passava a prelevarli a casa delle vittime che solo ore dopo, parlando con il figlio e il nipote in questione, scoprivano il raggiro. Gli indagati in gruppetti da due persone partivano tutti i giorni da Napoli con autoprese a noleggio. Le vittime venivano scelte tramite ricerche fatte in internet o sulle pagine bianche, contattate da telefonisti e poi raggiunte da corrieri. Il Sud tra autonomia differenziata e astenzionismo elettorale se ne discuterà sabato 25 maggio alle 10 a Palazzo Serra di Cassano, Istituto degli Studi Filosofici. Giornata della legalità, tante le iniziative. Si guarda sempre al messaggio da dare ai giovani, ogni qualvolta anche a Napoli si celebra la giornata della legalità in occasione dell'anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. E i giovani, nella ricorrenza che cade oggi, hanno voluto rispondere. In particolare gli studenti della Scuola De Filippo del Rione Conocal di Ponticelli che hanno scritto e musicato un brano inedito sui valori della legalità dal titolo Numun non est, eseguito in anteprima nell'auditorium dell'Istituto San Nino del quartiere della periferia est di Napoli durante un'iniziativa a cui ha preso parte anche la procuratrice minorile Maria De Luzzenberger. Gli studenti hanno partecipato al progetto Ti scrivo una canzone illegale promosso da SIAE per Chi Crea e Ministero della Cultura su impulso della dirigente Concetta Stramacchia. Questi ragazzi vivono in un contesto dove l'illegalità regna sovrana e soltanto all'interno della scuola, che è un presidio di legalità, possono vivere momenti, tra virgolette, di legalità attraverso le molteplici attività che si fanno dall'inizio dell'anno fino alla fine. Studenti protagonisti anche in piazza Municipio per la consueta cerimonia della deposizione dei fiori davanti alla lapide che ricorda il sacrificio dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, presenti Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis, l'assessore alla sicurezza Antonio De Jesu e il prefetto Michele Di Bari. Tra vecchie e nuove generazioni possa esserci la memoria di Falcone, di Borsellino, di tutti quegli agenti uomini e donne di scorta che hanno dato la vita per proteggere i loro magistrati e per proteggere noi. I giovani sono la ricchezza nel mondo, sono la speranza, però sono anche giovani che vanno accompagnati, soprattutto nella giovanissima età. È stato arrestato in Colombia sul provvedimento delle autorità colombiane Marco Dinunzio, imprenditore torinese che vive nel paese sudamericano per il caso del fantomatico testamento colombiano di Silvio Berlusconi. Nel frattempo il procuratore di Milano Viola e la PM Amedeo hanno chiuso le indagini in vista della richiesta di processo per il 55enne per falso in testamento e tentata estorsione ai danni dei figli del Cavaliere. Dinunzio pubblicò un testamento in cui sosteneva che davanti ad un notaio Berlusconi gli avrebbe destinato 26 milioni di euro. Non avrebbero adottato e comunque efficacemente attuato tutte le procedure necessarie per impedire la fornitura e quindi anche l'impiego di beni di tipologia diversa da quella indicata nel contratto di appalto pubblico e quanto la Procura di Salerno contesta a quattro società del settore costruzioni di edifici residenziali e dell'installazione, riparazione e manutenzione degli ascensori cui i finanziari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Salerno e poliziotti della sezione di Polizia Giudiziaria e della Polizia di Stato hanno notificato un'interdittiva di contrattare con la pubblica amministrazione della durata di un anno. Insieme seguiamo ancora questo servizio. Il carcere è un'opportunità o una condanna per chi lo subisce se ne è discusso in sala giunta a Palazzo San Giacomo a Napoli a margine del convegno carcere, emergenza educativa e spesa sociale. L'iniziativa organizzata dalla Camera Penale di Napoli in sinergia con la Federico II e il Comune ha visto al tavolo dei relatori numerosi esperti che si sono interrogati sul ruolo della detenzione educativa soprattutto rivolta ai giovanissimi, spesso protagonisti nella nostra città di fatti delittuosi. Tra gli interventi più interessanti quello della Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli Paola Brunese e del Procuratore aggiunto di Napoli, Simona Di Monte. Le famiglie devono essere attente all'educazione dei figli devono controllare quando escono di casa che non portino coltelli, armi ci vuole un'attenzione a 360 gradi non c'è una ricetta. Se esaminiamo il casellario giudiziale dei maggiorenni che è l'osservatorio mio personale ben poche condanne seguono condanne emesse dal Tribunale per i minori il che vuol dire sostanzialmente che il Tribunale per i minorenni funziona è uno strumento di rieducazione. Ma quale deve essere il ruolo della famiglia per strappare dalla malavita ai giovani? Lo chiarisce il coordinatore per il tavolo dell'infanzia e l'adolescenza del Comune di Napoli Paolo Siani. Il bambino non nasce delinquente non nasce appartenente a una baby gang lo diventa se nessuno fa nulla per evitarlo diventa per forza noi sappiamo perfettamente quali famiglie, quali quartieri, quali scuole vanno a questi bambini se tutti li guardiamo poi scopriamo che qua sotto qualcuno uccide un altro ragazzo. Se volete interagire con la nostra redazione vi ricordo che potete sempre farlo scrivendo il numero WhatsApp di Televomero 339 46 28 5 6 5 Un servizio. Il Comune di Napoli punta sempre di più sul rilancio della Galleria Umberto I L'idea è quella di una grande vetrina dove accogliere non soltanto grandi marchi ma anche le grandi catene internazionali Peccato però che il monumento che sorge a pochi passi dal San Carlo e da Piazza del Plebiscito continui a vivere nel degrado tra barboni, transenne, marmi scheggiate e l'inciviltà di chi lo trasforma specie nel weekend in un letamaio. In queste ore l'apertura della nota caffetteria anglosassone Starbucks che a differenza della Mondatori per fortuna aveva tutte le carte in regola per l'inaugurazione. A tenere a battesimo il negozio è il primo cittadino Gaetano Manfredi che rassicura i piccoli e grandi bar napoletani che non devono sentirsi minacciati dal colosso mondiale del caffè. Ovviamente è una grande realtà internazionale che offre un prodotto ed è rivolto a un target molto diverso. Quindi noi più variamo l'offerta più potenziamo la qualità della città più rafforziamo le nostre realtà territoriali. Chiaramente la tazzina di caffè napoletana non verrà mai lambita da nessuno. Ma cosa ne pensano invece i titolari dei bar che da anni operano in zona e accolgono ogni giorno turisti da ogni parte del mondo? Io da napoletano vado in altro paese a mangiare la pizza mi sembra un po' una cosa controcorrente se vado in Spagna vado per mangiarmi la paella se vengo a Napoli vengo per prendere il caffè e mangiare il babà, la sfogliatella. Secondo me viene nel bar napoletano perché se deve stare nel bar del suo paese rimane al suo paese. Se lei guarda fuori ci sono tutti americani. No, non ci fa paura perché comunque continuano a scegliere i piccoli bar e il caffè espresso napoletano. Per sottrarsi al pagamento delle imposte hanno fatto fallire la società poi rimpiazzata con un'altra messa in piedi con le stesse strutture e anche con il denaro accumulato emettendo fatture per operazioni inesistenti. Erano gestite dagli stessi tre imprenditori la società cessata e quella subentrante che gestisce un negozio di abbigliamento del CIS di Nola a cui il nucleo di polizia economico-finanziario della Guardia di Finanza di Napoli coordinato dalla Procura di Nola ha notificato una misura cautelare di interdizione dell'esercizio dell'attività di impresa e di cariche direttive della durata di un anno. Dieta Mediterranea a Napoli il Festival dei Cinque Colori Napoli per cinque giorni capitale della dieta mediterranea Palavesuvio, Maschiangioino, Villa Doria Danghi e Teatro San Nazaro le location che hanno ospitato le iniziative del Festival dei Cinque Colori evento a carattere nazionale giunto alla seconda edizione che abbraccia a 360 gradi il mondo della dieta mediterranea dell'agroalimentare della promozione dei prodotti tipici e locali di ogni regione italiana organizzato dall'associazione Pancrazio presieduta da Maria Teresa Carpino. Devo dire un bilancio super positivo quindi pieno di una seconda edizione qui a Napoli piena di pubblico e soprattutto abbiamo visto il volto felice dei bambini. Protagonisti soprattutto i bambini a cui era rivolto in particolare il messaggio a una migliore educazione alimentare. Tra gli esperti intervenuti Ettore Novellino docente di chimica farmaceutica alla Federico II e Claudio Cricelli presidente emerito della Società Italiana di Medicina Generale. La dieta mediterranea è quella più salutistica e che consente uno stile di vita sano. È difficile da applicare perché il tipo di alimenti che la dieta mediterranea prevede hanno poco di commerciale. Qui in questo cortile ci sono un sacco di bambini e quindi diffondere questi concetti sulla buona alimentazione e in particolare sull'uso di quelli che sono composti della dieta mediterranea è una cosa che io trovo estremamente intelligente e estremamente utile. Tra stand promozionali e seminari di approfondimento su tematiche legate all'alimentazione e incontri con personaggi noti dello spettacolo come gli attori Edoardo Leo e Francesco Pannofino. Un cartone animato molto educativo che si rivolge ai bambini ma non solo e utilizza il linguaggio dei bambini. Sono sempre cose che danno soddisfazione perché aiutano le persone a vivere meglio e speriamo che siano di insegnamento ai bambini di buona volontà. Spaccio in Litorane ha arrestato Puscher della Mali e gli agenti del commissariato di pulizia di Stato di Battipaglia hanno arrestato un uomo il quale dopo un controllo è stato trovato in possesso di droga. Una scuola più verde e più a misura di alunno per il mondo che vorrei con la piantumazione di alberi la realizzazione di un orto sensoriale e la sistemazione di aiuole fiorite è quanto realizzato nell'ambito di un progetto di sostenibilità ambientale dai ragazzi dell'istituto scolastico Ferraiolo Siani di Acerra che insieme all'associazione Acerra più verde comitato di volontari e cittadini per il verde con il coordinamento della dirigente scolastica Ricci hanno reso più green la propria scuola un'iniziativa dunque importante in vista della tutela sempre più pressante dell'ambiente. Salute in Campania dibattito sul tumore ovarico Tumore ovarico migliora l'accesso alle cure grazie alla rete oncologica campana e al percorso diagnostico assistenziale ad accedere i fari sull'importanza dell'accesso ai test genetico e genomico sul percorso di cura e sull'importanza della scelta del centro di cura specializzato ma anche sulle possibilità di convivere con il tumore ovarico oltre la patologia scavando nel vissuto di centinaia di donne affette da cancro ovarico in Campania o a rischio di svilupparlo è l'acto l'alleanza contro il tumore ovarico che ha patrocinato a Napoli un confronto tra clinici oncologi medici chirurghi istituzioni sanitarie per la sponsorizzazione di GSK Sandro Pignata primario del Pascale e responsabile scientifico della rete oncologica campana c'è da cambiare rotta c'è necessità di sviluppare delle strategie per curare meglio i tumori dell'ovaio che sono tra le patologie oncologiche quelle più complesse perché si presentano spesso in fase avanzata e perché non possono essere prevenute se non identificando i soggetti sani che sono portatori di mutazione e lavori intervenuti anche Giovanni Gerolosima presidente di Acto Campania il nostro compito è di non farle senti solo di non far senti solo la donna e le famiglie in modo da capire che non possono fare viaggi della speranza per il nord ma quando noi abbiamo delle realtà eccellenti qui in Campania al confronto ha preso parte anche Francesco Perrone presidente nazionale di IOM direttore dell'unità sperimentazioni cliniche del Pascale la situazione in Campania è una situazione in netto miglioramento per quello che riguarda l'assistenza oncologica grazie ai grandi passi avanti organizzativi che sono legati all'attività della rete oncologica campana come emerge dalla ricerca condotta da Acto in Italia lo scorso anno l'88% delle pazienti è stato informato riguardo al test genetico per le mutazioni BRCA buon pomeriggio grazie per essere stati con noi ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.